Lunedì 23 agosto 2021 comincia Una nuova settimana di tempo d'estate Buongiorno e bentrovati cari amici Buon inizio di settimana 10.45.26 in questo istante Come ogni giorno in diretta per farvi compagnia dai luoghi di Padre Pio a San Giovanni Rotondo Cominciamo questa settimana come ci siamo lasciati con la precedente E questa volta la sorpresa potremmo definirla così E che a farci compagnia dall'esterno della chiesa di San Pio da Pietrelcina C'è Anna Maria Salvemini a cui darò tra pochissimi istanti la linea Perché la vedo sofferente per il caldo Non ti preoccupare Anna Maria tra poco sarò da te Solamente per fare gli auguri a tutte le amiche che portano il nome di una grande santa Che quest'oggi la chiesa ci fa festeggiare Parliamo di Santa Rosa da Lima e lei la santa di quest'oggi La grafica di Roberto Cocomazzi alla regia ci fa meglio comprendere di chi stiamo parlando Santa Rosa religiosa patrona del Perù, del Nuovo Mondo e delle Filippine Pur provenendo da una famiglia nobile di immigrati spagnoli stanziatisi nel Perù Non esitò a rimboccarsi le maniche quando i suoi familiari per una serie di sciagure Si ritrovarono in ristrettezze economiche Fin dall'adolescenza scelse di seguire Gesù con intimo trasporto Iscrivendosi al terzo ordine domenicano e avendo come modello e guida spirituale Caterina da Siena Dedita alla cura dei poveri e ai lavori ordinari che una ragazza di casa è chiamata a svolgere quotidianamente Si impose un regime di vita austero improntato a una penitenza straordinaria Infatti a 23 anni la ragazza si rinchiusa in una cella di appena 2 metri quadrati Che si era fatta costruire dal fratello nel giardino di casa e da cui usciva solo per recarsi alle funzioni religiose Dunque il messaggio che Santa Rosa continua a comunicare ai devoti che la invocano soprattutto nel santuario famosissimo di Lima in Perù È espresso in uno dei misteriosi messaggi che ricevete dal Signore Tutti sappiano, le confidò Gesù, che la grazia segue alla tribolazione Intendano che senza il peso delle afflizioni non si giunge al vertice della grazia Comprendano che quando cresce l'intensità dei dolori così aumenta la misura dei carismi Nessuno erri né si inganni Questa è l'unica vera scala del Paradiso Una esistenza breve morì a soli 32 anni che fu segnata da numerose prove e pene Ma che fu tutta permeata di amore per Cristo e di grande serenità Dunque Santa Rosa da Lima, una grande santa E rinnoviamo gli auguri a tutte coloro le quali portano il nome appunto della santa che festeggiamo quest'oggi Ma vogliamo anche come sempre aprire l'almanacco di ciò che accadde oggi Come viene normalmente definito questo spazio E vogliamo tornare al 1927 negli Stati Uniti Una vicenda che magari tanti di noi hanno sentito sia nelle fiction televisive Ma anche leggendo racconti e articoli giornalistici dell'epoca Perché nonostante le proteste nazionali in Italia e negli Stati Uniti Vengono giustiziati gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Banzetti Ancora nel 1939, un altro accadde oggi Germania e Unione Sovietica firmano il patto Molotov-Ribbentrop Il patto di non aggressione E poi nel 1940 cominciano i bombardamenti di Londra ad opera dell'aviazione tedesca Nel 1990 Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per il 3 ottobre Per arrivare al XXI secolo In questo giorno si è convenzionalmente attribuita la formazione dell'uragano Catrina Ricorderete una vicenda spaventosa, dolorosissima Che ha causato centinaia di migliaia di morti negli Stati Uniti Non faccio più attendere Anna Maria che è in collegamento con noi Dal Sagrato della Chiesa di San Pio Buongiorno Anna, ben trovata Un rientro dalle ferie con i Fiocchi Traumatico direi Ciao Leo, ben trovato anche a te di nuovo E ben trovati a tutti gli amici telespettatori Io mi sono riposizionata qui sul Sagrato della Chiesa di San Pio Come sempre sotto a un sole molto molto potente Diciamo anche oggi Quindi è ripreso il caldo dopo una leggera pausa fresca Che c'è stata nei giorni scorsi Che dire, qui ci sono come sempre tanti pellegrini Alcuni di loro hanno anche chiesto informazioni Su dove potessero andare per pregare davanti al corpo di San Pio Gli abbiamo comunque dato informazioni giuste Perché Padre Pio, come sapete tutti Si trova nella cripta della Chiesa Inferiore Quindi approfittano anche della nostra presenza E qualcuno ci ha anche promesso di ritornare qui Per dare la testimonianza Però ci siamo voluti posizionare sotto all'ombra Seppur insomma piccola ombra Metaforica direi Questi ulivi rappresentano Eh sì esatto Leo Questi ulivi sono alcuni degli alberi da frutto più amati da tutti Rappresentativo della nostra regione In particolar modo del nostro gargano Hanno una chioma folta Come potete vedere Qui ne sono presenti 24 Lo avete detto anche voi diverse volte nelle vostre dirette Sono 24 Simboleggiano 12 profeti e 12 apostoli Ovviamente c'è bisogno con queste alte temperature di tanta cura Ed è però particolarmente significativo come appunto simbologia Perché è l'emblema della vittoria, dell'onore, della rinascita Ma anche e soprattutto un simbolo di pace E non possiamo far riferimento Leo Anche perché qui si respira aria di libertà Non possiamo non fare riferimento a quello che si sta vivendo dall'altra parte del mondo A Kabul in particolare Dove la libertà purtroppo viene a mancare Quindi ci sentiamo solidali con loro Chiediamo tanta preghiera Perché le cose si risolvino al più presto Nel miglior modo possibile Questa libertà che noi respiriamo A volte non ce ne rendiamo conto Però siamo davvero fortunati Da questa parte del mondo A poterla vivere E a poterla anche trasmettere ai nostri figli Quindi una preghiera forte Deve raggiungere tutte le popolazioni Che in questo momento stanno soffrendo Secondo la Bibbia Fu proprio un ramuscello d'olivo A sancire l'alleanza tra Dio e gli uomini Quando una colomba lo portò a Noè Sull'arca Per annunciare la fine del diluvio universale E oltre ad essere importante Come pianta Diciamo come simbolo Ecco significativo Come simbolo E anche utile nelle cure L'olivo L'olio extravergine di oliva Noi lo usiamo nelle nostre tavole I turisti, i pellegrini che vengono qui sul Gargano Sanno che ce n'è in abbondanza Però è anche un formidabile alleato Per le donne sottoposte a chemioterapia Per cancro al seno E' stato riconosciuto Anche per le sue proprietà benefiche Per la salute Per la salute appunto E combatte i radicali liberi Abbassa i livelli di colesterolo E anche A proprietà antiossidanti E per produrre Pensate Un solo chilo di olio Sono necessari Circa 5 chili di olive Noi sappiamo che qui A un certo punto Ci sono le olive E vengono anche raccolte Quindi anche questi alberi Presenti sul sagrato Danno i loro frutti E non vengono sprecati Ci sembrava un bello scenario Insomma per fare questa diretta oggi Sì in effetti Viva l'olio d'oliva innanzitutto Perché Viene definito l'oro verde Non a caso Tu l'hai giustamente sottolineato Anche quei 24 alberi lì Servono per una piccolissima Ovviamente produzione Di olio Che non viene messa Ovviamente in commercio Perché comunque Le quantità sono minime Ma che Comunque Servono a testimoniare Il fatto che quegli alberi Danno frutto E non sono posti lì Non solo In maniera ornamentale Ma anche Danno frutto appunto Perché Con le loro olive Contribuiscono in qualche maniera Anche ad allietare la tavola Dei frati minori cappuccini In maniera molto Ovviamente Molto molto limitata Sì Io so che tu sei anche Un assaggiatore di vini Probabilmente ti ritroverai Anche ad assaggiare L'olio Sai che c'è Questo mestiere Certo Si assaggia l'olio Come si assaggia il vino Si degusta Quindi insomma Venite in Puglia Anche per questo Vi aspettiamo numerosi Allora Anna Maria Io ti ringrazio E ti saluto Se ovviamente Hai bisogno della linea Me la chiedi In qualsiasi momento E possiamo continuare Il nostro Tempo d'estate Nel frattempo Mettiti all'ombra Bevi un po' d'acqua E quindi Stiamo tranquilli E ci vediamo dopo Ti ringrazio tanto Grazie di cuore A dopo Grazie Grazie Visto che comunque Anna Maria Ci ha anche In qualche maniera Comunicato Che sono tanti Ovviamente I pellegrini Che quest'oggi Sono giunti A San Giovanni Rotondo Siamo ormai In un periodo Di ripartenze Quindi Il pellegrinaggio I pellegrinaggi Man mano si andranno Assottigliando Per poi riprendere Con più forza Nel mese di settembre Secondo speriamo I volumi Che abbiamo conosciuto Nel passato Ne approfitto anche Per ricordare A tutti quanti voi Che la nostra Grazia Pia In segreteria E anche Attraverso Gli indirizzi mail Info Chiocciolateleradiopadrepio.it È disponibile Per ricevere Le foto Del vostro Pellegrinaggio E anche noi Siamo pronti A riceverle E a mandarle in onda Per far Per condividere Anche per certi versi La vostra esperienza Qui nella terra Di Padrepio In maniera particolare Voglio salutare Corrado e Maddalena Dalla Slovacchia Che ieri sono passati A trovarci In redazione E ci tenevano A lasciare Il loro nominativo Per Ecco Testimoniare Ancora di più La loro presenza Qui a San Giovanni Rotondo Ripeto Allora A beneficio Di colori Quali Non avessero Fatti in tempo Ad appuntarli Info Chiocciolateleradiopadrepio.it Il numero In sovrimpressione 0882 4183 80 Per mettersi In contatto Con la nostra Redazione Ma noi Andiamo avanti Con il nostro Programma Perché il tempo Scorre E scorre Tiranno E velocemente Per ritornare Alla giornata Di ieri Come ogni domenica Papa Francesco Ha tenuto Dalla finestra Del palazzo apostolico In Vaticano La preghiera Dell'Angelus E noi vogliamo Ascoltare Un breve stralcio Del suo discorso Le parole Di Gesù Suscitano Un grande scandalo Egli sta dicendo Che Dio Ha scelto Di manifestare Se stesso E di attuare La salvezza Nella debolezza Della carne umana Il mistero Dell'incarnazione E l'incarnazione Di Dio E ciò Che suscita Scandalo E che Rappresenta Per quella gente Ma spesso Anche per noi Un ostacolo Infatti Gesù Afferma Che il vero Pane Della salvezza Che trasmette La vita eterna E la sua Stessa carne Che per entrare In comunione Con Dio Prima di osservare Delle leggi E soddisfare Dei precetti Religiosi Occorre vivere Una relazione Reale E concreta Con Lui Perché la salvezza È venuta Da Lui Nella sua Incarnazione Questo significa Che non bisogna Inseguire Dio In sogni Immagini Di grandezza E di potenza Ma bisogna Riconoscerlo Nell'umanità Di Gesù E di conseguenza In quella Dei fratelli E delle sorelle Che incontrammo Sulla strada Della vita Dio Si è fatto Carne E quando noi Diciamo questo Nel credo Il giorno del Natale Il giorno Della annunziazione Ci inginocchiamo Per adorare Questo mistero Dell'incarnazione Dio Si è fatto Carne Si è fatto Carne E sangue Si è abbassato Fino a diventare Uomo Come noi Si è umiliato Fino a caricarsi Delle nostre sofferenze E del nostro peccato E ci chiede Di cercarlo Perciò Non fuori Dalla vita Dalla storia Ma nella relazione Con Cristo E con i fratelli Cercarlo Nella vita Nella storia Nella vita Nostra quotidiana E questa Fratelli e sorelle È la strada Per l'incontro Con Dio La relazione Con Cristo E i fratelli Anche oggi La rivelazione Di Dio Nell'umanità Di Gesù Può suscitare Scandalo E non è facile Da accettare È quello che San Paolo Chiama La stoltezza La stoltezza Del Vangelo Di fronte A chi cerca I miracoli O la sapienza Mondana E questa Scandalosità È ben rappresentata Dal sacramento Dell'Eucaristia Che senso Può avere Agli occhi Del mondo Inginocchiarsi Davanti Un pezzo Di pane Perché mai Nutrirsi Assituamente Di questo pane Il mondo Si scandalizza Di fronte Al gesto Prodigioso Di Gesù Che con cinque panni E due pesci Sfama migliaia Di persone Tutti lo acclamano E vogliono portarlo Al triunfo Farlo re Ma quando lui Stesso Spiega Che quel gesto È segno Del suo Sacrificio Cioè Del dono Della sua vita Della sua carne Del suo sangue E che chi vuole Seguirlo Deve assimilare lui La sua umanità Donata per Dio E per gli altri Allora Non piace E questo Gesù Ci mette in crisi Anzi Preoccupamoci Se no Ci mette in crisi Perché forse Abbiamo anacquato Il suo messaggio E chiediamo la grazia Di lasciarsi Provocare E convertire Dalle sue parole Di vita eterna E Maria Santissima Che ha portato Nella carne Il figlio di Gesù E si è unita Al suo sacrificio Ci aiuti A testimoniare Sempre La nostra fede Con la vita Concreta Parole dunque Importanti Quelle di Papa Francesco Pronunciate nel corso Dell'Angelus Di ieri Noi ora vogliamo fare Una breve sosta pubblicitaria E poi ritornare Ancora qui in diretta Con Tempo d'Estate Restate con noi Riprendiamo la nostra diretta E torniamo a collegarci Con il sagrato Della chiesa di San Pio Con Anna Maria Che ha già pronti Due ospiti Tra l'altro Anna Maria Se avessi avuto Una maglia bianca Avremmo avuto Un perfetto tricolore Quindi Stamattina siamo fortunati A te la linea Sto sorridendo Anche se non si vede Perché ho la mascherina Esatto Ho due ospiti Accanto a me Uno vestito di verde Uno di quasi rosso E giustamente Insomma Era un bel Tricolore Allora Io ho Stranamente Recuperato Dei giovani Qui sul sagrato Stranamente Perché di solito Siamo abituati a vedere Persone di una certa età O famiglia Al completo Sì questo sì Però ecco Chi si è voluto Mettere in gioco Oggi Sono proprio due ragazzi Sono con il loro papà E la loro mamma Hanno accolto con gioia Questo invito Perché sono qui Pellegrini A San Giovanni Rotondo Anche per altri motivi E vogliono raccontare un po' Che cosa sanno loro di Padre Pio Perché sono così affascinati Sicuramente È una figura Che è stata raccontata loro Dalla mamma E dal papà Però è bello sentirli Ecco Raccontare Lui è Salvatore Lei e Sofia Sono due fratelli Parto da Salvatore Qui a San Giovanni Rotondo Non per la prima volta Vero? No Se non sbaglio Sarà o la terza o la quarta volta Che veniamo qui Ma noi Se è possibile Cerchiamo di venire ogni anno Per motivazioni Diciamo Fisiche Ogni anno Cerchiamo di richiedere A Padre Pio Una grazia per mia sorella E inizialmente Devo ammettere Che non conoscevo La sua storia Perché insomma Venendo qui da piccolo Non ero molto attratto Però poi Anche vedendo il film Che uno o due anni fa Non ricordo bene L'ho trasmesso sulla Rai Ho approfondito di più Questa mia conoscenza E sono molto affascinato Dalla personalità di Padre Pio Che oltre Comunque ad essere Oltre al punto di vista religioso Che ci attira di più E una personalità Molto affascinante Anche dal punto di vista umano Soprattutto perché Lui era un uomo Sempre Dalla parte dei deboli Degli umili Che cercava sempre Di dare un confronto E un conforto Agli oppressi A coloro che insomma Sono afflitti da sofferenze Quindi è più Questo lato Oltre a quello cristiano Che almeno personalmente Mi attira maggiormente Ha detto confronto In realtà c'è stato anche Un confronto scontro Nella sua vita Con diverse personalità Che lo circondavano Però ecco È bello questo segnale positivo Che ti ha lasciato Padre Pio Non è sempre così Insomma Non ascoltiamo sempre Questi racconti Sofia Tu sei un po' più piccola Di Salvatore Sì E quando hai conosciuto Padre Pio Perché ti piace O perché segui Mamma e papà In ogni suo viaggio In ogni loro viaggio Allora io Sono venuta qui Con la mia famiglia Perché porto il busto Quindi Veniamo ad omaggiarlo Padre Pio Siamo una famiglia Molto devota Venite da Catanzaro Giusto Questo non l'abbiamo detto Sì Veniamo da Catanzaro E frequentiamo molto la chiesa Quindi È un piacere venire qua ogni anno Perché abbiamo sempre cose da chiedere È bella questa frase che ha detto Sofia Abbiamo sempre cose da chiedere E sicuramente qualcuno di là ascolta È bello perché Sofia Ha un motivo particolare Per cui viene qui a San Giovanni Rotondo E ha sempre speranza Voi avete Anche approfittato di questo pellegrinaggio Qui di questa visita a San Giovanni Rotondo Anche per visitare Monte Sant'Angelo La vicina a Monte Sant'Angelo Il papà mi ha detto fuori Dalla diretta Insomma che è molto devoto di San Michele Sì Sì Noi siamo anche molto devoti a San Michele E devo ammettere che ogni anno Che cerchiamo di andare Succede sempre qualche imprevisto Ma poi sì Ogni anno la macchina ci lascia per strada Però poi alla fine riusciamo sempre Ad arrivare Ed è una bellissima gita Perché oltre ad essere un posto molto caratteristico Forse anche più di Padre Pio Dimostra quello che è il confronto Tra il bene e il male Lo scontro più che altro Tra il bene e il male Su cui poi il bene Ha sempre avuto diciamo la meglio Quando tornate a casa Sofia quando torni a casa Racconti poi di questo viaggio I tuoi amici e le tue amiche Sì Sempre Ogni anno Anche perché Abbiamo sempre questo confronto Essendo comunque Tutte delle amiche che frequentiamo La chiesa Abbiamo sempre qualcosa da dire Su questi pellegrinaggi Una parola soltanto Per descrivere Padre Pio Simpatico Qualcuno lo definisce burbero Tu Amabile Secondo me È una persona Che ha avuto tantissima cura degli altri E che ha dedicato la sua vita La sua intera vita Per aiutarli Quindi attento Padre Pio Attento agli altri Agli ultimi Ai sofferenti Soprattutto Invece per te Salvatore Io direi Una persona forte Più che altro Perché oltre a questo lato Che anch'io ho detto Molto evidente Comunque è stato sempre Una persona Che ha combattuto Durante la sua vita Sia contro il male Che comunque Tutte le sfide quotidiane Che gli impedivano Di proseguire il suo cammino Quindi fortezza Ecco Una delle qualità Di Padre Pio Venite un po' più qua Mi dicono che siamo forse Ci siamo avvicinati troppo alla telecamera Dall'altra parte ci sono mamma e papà Mamma come si chiama e papà? Mamma Maria Giuseppina E papà Giovanni Non vogliono venire da questa parte No? Hanno mandato in avanscoperta i figli Forse Giovanni sì Giovanni vuole venire? Papà Giovanni Prego Così ci racconta un po' del suo rapporto con San Michele Visto E ne approfittiamo Ben trovato Allora San Michele Ho visto che ha anche una medaglietta Che porta sempre con sé Sì salve Buongiorno Io sono devoto a San Michele Perché vorrei evidenziare Perché spesso non tutti Questo confronto lo riescono Diciamo a percepire Nella vita come esiste il bene Purtroppo esiste anche il male Spesso a volte il male Riesce anche a sopraffare il bene Lo vediamo Per esempio con tanti giovani Che cadono nella trappola della droga Le famiglie Che si disgregano Tante cose O tanto altro Io sono devoto Perché nella tradizione San Michele Rappresenta colui Che è riuscito a A sconfiggere Il diavolo E quindi Tra virgolette Il male Niente Ogni anno Cerco di affrontare Questo pellegrinaggio E trovo sull'emastrada Sempre Diciamo Degli ostacoli Degli ostacoli Però Ormai Diciamo Ho superato la prima fase Diciamo Di arrabbiatura Capisco che Purtroppo c'è qualche Qualche persona Qualche uno Che non mi vuole fare arrivare Ma Per me questa è una prova Perché nella vita Lo sappiamo Bisogna superare tante prove Questa è l'ennesima prova Che dovrò superare Ogni volta Ci sono sempre Degli ostacoli Qualche cosa Giustamente diceva mio figlio A padre Perché noi facciamo sempre Voi avete detto Prima della trasmissione Padre Pio diceva Passate prima Da San Michele Poi da Padre Pio Noi invece veniamo A Padre Pio Riusciamo ad arrivare Arrivato a Padre Pio Succede qualche cosa Che ci dovrebbe impedire Di arrivare a San Michele Ma noi poi alla fine Riusciamo sempre Arriviamo E sentiamo la messa In questo posto Che con un aggettivo Lo definirei suggestivo In questa grotta Meravigliosa Dove c'è una State delle apparizioni Di San Michele Niente Io mi auguro sempre Che lui Mi accompagni sempre E vi protegga E mi protegga Dalle tentazioni Dal male Comunque lo voglio fare vedere L'anno scorso Ho acquistato Una catenina Una catenina Che è d'oro E l'ho fatta Benedire E la porto Sempre con me Non la tolgo mai 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 Solo Questa è una cosa Personale Quando vado in acqua Perché ho paura Di perderla Altrimenti Questa è sempre con me E non la tolgo E non la toglierò mai Benissimo Se si dovesse Se dovesse andare a male Ne compra un altro C'è sempre la soluzione Comunque dovete sapere Giovanni Che qualcuno dice Quando ci si presentano Ostacoli Difficoltà per arrivare Ad un obiettivo In questo caso Le vostre mete Qua vicino Vuol dire che si sta facendo La cosa giusta E quindi Insomma Il diavoletto ci mette Lo zampino Ma noi Con la forza E con la fede Siamo pronti E riusciamo sempre A superarli Questi ostacoli Speriamo che riusciamo A fare la cosa giusta Sempre Quando c'è il bene Come sottofondo È sempre la cosa giusta Allora Siete una bellissima famiglia Ve lo diciamo in diretta Sofia Salvatore Giovanni C'è la mamma Dall'altra parte Della telecamera Grazie Di cuore Per averci Trasmesso In profondità La vostra fede E Leo Se per te va bene Ti restituisco la linea Altrimenti La teniamo ancora Qui sotto al sole Grazie Grazie Anna Maria È bello Percepire le emozioni Dei tuoi ospiti Capiamo insomma Che non è facile Trovarsi catapultati Davanti ad una telecamera E raccontare Quanto di più Intimo magari c'è Nel rapporto Con figure straordinarie Quali possono essere Appunto Padre Pio da Pietrelcina E San Michele Arcangelo Che abbiamo l'onore Davvero di poter Venerare Qui a pochi chilometri Da noi Quindi grazie a te Anna Maria Grazie ai tuoi ospiti Augurali Buon pellegrinaggio Sono stati bravissimi loro Ottimo Benissimo Certo Vi augura anche il mio collega Dall'altra parte Buon pellegrinaggio Grazie Grazie a voi A voi grazie Ciao Anna A dopo Grazie Grazie mille Noi allora Ora vogliamo lasciare La parola Ad un nostro carissimo Amico Padre Marciano Morra Che ci parla Di un aspetto importante Della spiritualità Di Padre Pio Ascoltiamolo insieme Che cosa è La Cassa sul libro? È l'espressione Dell'amore Di Padre Pio Per Una situazione Catastrofica Del Gargano Dove C'erano Tanti La realtà C'erano Ammalati Anziani Eccetera Che non avevano Un'assistenza Perché? Perché mancavano i medici Mancavano le strutture Mancava tutto E quindi Padre Pio Soffriva di questo Anche perché Dobbiamo Anche notare questo Perché Padre Pio Non è che era stato Sempre bene In salute Perché Chi sta sazio Si dice Non crede Il digiuno Allora Il Signore Che cosa ha fatto? L'ha fatto toccare Con mano Che cosa significa Essere malato? Che cosa significa Avere la febbre alta? Che cosa significa Stare in un ospedale L'ospedale militare Di Napoli E non essere curato? E non essere visitato? È curiosa La storia Storia Di quanto va Alla visita medica All'ospedale Di Napoli Davanti Al colonnello medico E quella visita L'aveva ottenuto Dopo Tante raccomandazioni Padre Pio Si servì anche Delle raccomandazioni Per un diritto Di essere visitato E il colonnello medico Mentre leggeva il giornale Scrive Senza guardarla Neppure in faccia Scrive Che sta bene in salute E può continuare A fare in militare E questa è ingiustizia Quindi Padre Pio Si rende conto Della situazione Del tempo Paga di persona E dice Io ho sofferto Gli altri soffrono Come me E più di me Io mi debbo Imparcare In una grande opera Perché è stata Una cosa pazzesca Subito Dopo la guerra E durante la guerra Progettare La costruzione Della casa Sollievo Sulla montagna Sulla montagna Nella roccia Senza strada Senza telefono Senza acqua Senza nulla Proprio Pazzesco E affronta Questo progetto Bene Noi diciamo Perché? Perché ama Perché amava Era di manica larga Agiva alla Carlona Gli operai Lavoravano Lavoravano Facevano Quelle che volevano Tanto Padre Pio E' buono Tanto Padre Pio Ci vuol bene Altro che Altro che Vedi Proprio in questi giorni Ieri Bella Bella Fresca Fresca La notizia E mi piace Anche comunicarla Agli teleascoltatori Suore Elia Delle suore apostole Dell'ospedale Che ha lavorato Con me Al centro gruppi Mi ha sempre detto Che A fine mese Lei portava In convento Da Padre Pio I registri Della contabilità Entrata E uscita E mi diceva Suore Elia Che Padre Pio Era attentissimo Nel controllo Delle entrate Ma non tanto Quelle dell'entrata Era proprio Cavilloso Minuzioso Nel controllo Delle voci Delle uscite Addirittura Sì Quindi Vedete E' un fatto nuovo Ma Padre Pio Che doveva confessare Quello L'estima Television Questa è storia Padre Pio Che controllava Minuziosamente Minuziosamente Le voci Delle uscite Perché era cattivo Perché non rispettava La carità No Perché amava Allora Amore Carità Significa anche Esigere Il papà Che vuole bene Veramente Al figlio Eh si mette Seduta al tavolino Anzima al figlio Studia Ma questo non lo capite Si fa così 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 E anziché Andare al bar A giocare a carte Andare allo sport Non so Adesso Calcio Quello Seduta A fianco al figlio A studiare A far studiare Il figlio Questo è amore Non è severità E' amore Non so se rendi via Non so se rendi via